Antonino Spinalbese e Luca Onestini hanno provato a far capire a un concorrente del grande fratello VIP7 che in una particolare circostanza ha leggermente superato dei limiti. Ci saranno riusciti? Forse sì. Ma forse no. Chi ha seguito la diretta è sicuro che il diretto interessato non abbia colto la serietà della questione. Ma di chi si sta parlando? Di Charlie Gnocchi e le frasi su Oriana Marzoli. C'è quindi bisogno di fare un passo indietro e riassumere quanto è accaduto. Prima di raccontare la strigliata a Charlie di Onestini e Spinalbese. Sabato sera. In un clima di festa. Su Twitter i fan hanno cominciato a discutere e a confrontarsi su alcune frasi di Charlie su Oriana. Erano dei commenti alquanto spinti. Fuori luogo. E di sicuro poco piacevoli e per qualcuno anche irrispettosi. Non che non se ne facciano di simili in quella casa e il caso vuole che siano sempre i cosiddetti over a farli. Ma cosa ha detto Gnocchi? Avvicinandosi all'orecchio di Antonino gli ha sussurrato. Oriana ha voglia di fare una sequelle TR. Bate. Non contento ha proseguito. Ha voglia di lasciarsi andare. È bollita. Alla F. Bagnata. Decisamente troppo. Tant'è che la regia del GF VIP è intervenuta e la voce di turno ha urlato. Charlie. Per invitarlo a fare silenzio. Le frasi in questione continuano a far discutere ancora oggi. Così come le parole di Patrizia Rossetti e Vilma Goik su Mikolin Corvaia. Insomma. Davvero questi over non sanno più stare al mondo e non conoscono i confini della decenza e del rispetto? Forse Charlie pensava di non essere sentito. E invece per sua sfortuna era in onda in quel momento. Può capitare infatti. Visto che ci sono solo due regie. Di dire qualcosa che il pubblico non ascolta. Ma i concorrenti non sanno quando sono in onda e quando no. A meno che non si accorgono di qualche movimento di telecamera.